Seguendo il percorso del nostro corso abbiamo selezionato dei docenti che provengono da esperienze diverse, da settori diversi, per dare appunto in ogni fase del percorso la giusta competenza. Quindi ci sono all'interno del corso persone che vivono e lavorano a Bruxelles e che hanno una grossa esperienza di networking, di relazioni con i partner, di giornate informative sui programmi europei, ci sono persone che lavorano in ambito universitario, quindi che fanno progetti di innovazione con l'università ma coinvolgendo anche gli enti del territorio, ci sono esperti di progettazione, quindi di aziende che lavorano, che supportano gli enti nella progettazione e ci sono esperti di rendicontazione, persone che nella loro vita hanno già fatto controlli finanziari e amministrativi di progetti europei finanziati. Quindi tutte queste competenze dovrebbero servire per dare ai partecipanti un orientamento nel mondo della progettazione europea che è un mondo difficile e molto complesso, che comprende tante competenze diverse, richiede dover prendere informazioni da tante fonti diverse. Questo corso vuole essere come un primo orientamento all'interno di questo mondo per rendere un po' più semplice la scrittura e poi la realizzazione di progetti europei.